Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa diciannovesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando della Russia. L'esercito russo sostituirà Windows con Astra Linux. Qualche settimana fa vi avevo parlato di una decisione analoga da parte della Corea del Sud. Adesso arriva la notizia che anche l'esercito russo ha deciso di migrare a Linux passando da Windows, quindi abbandonando Windows sui computer della propria infrastruttura. La distribuzione che hanno deciso di utilizzare è Astra Linux, una derivata di Debian sviluppata da una compagnia russa chiamata Rusbitech. Questa distribuzione viene sviluppata dal 2008. Nel corso degli anni, all'inizio era pensata come una distribuzione per il mercato privato russo, poi nel corso degli anni la società si è espansa nel settore delle amministrazioni locali, dove è diventata sempre più popolare tra gli appaltatori militari. Da qui la decisione da parte della società di intraprendere il percorso di certificazioni per quanto riguarda il trattamento dei dati, delle informazioni all'interno dei vari livelli dell'infrastruttura russa. La normativa russa prevede tre livelli di sicurezza per la gestione delle informazioni, segrete, top secret e importanza speciale. All'aprile di quest'anno ha ottenuto finalmente l'ultima certificazione, quella appunto di importanza speciale e quindi il ministero ha autorizzato l'utilizzo di questa distribuzione all'interno del ministero della difesa russa. E quindi adesso può essere liberamente utilizzata all'interno appunto di tutti gli organi delle agenzie di intelligenza del ministero della difesa. Per l'occasione è stata rilasciata una versione chiamata Asta Linux Special Edition 1.6 che appunto è certificata per l'utilizzo in questi ambienti. Perché? Si sa perché vengono fatte queste decisioni, perché vengono prese, perché c'è sempre la paura che l'utilizzo di sistemi operativi proprietari Microsoft che vengono sviluppati in nazioni diciamo così potenzialmente nemiche ostili, quali gli Stati Uniti, possano contenere delle backdoor che possono essere sfruttate per operazioni di spionaggio. Quindi facendosi la distribuzione per fatti suoi, facendosi il sistema operativo per fatti suoi, ci si mette in riparo da eventuali backdoor e quindi si dormono sogni più tranquilli. Passiamo adesso a Linux Mint. È stato pubblicato il consueto post mensile con il riassunto delle donazioni e alcune notizie dall'universo Linux Mint. Crem ha annunciato che nel mese di aprile ci sono stati ben 24.000 dollari di donazioni, segno che la distribuzione vive vegeta e che l'amore e l'interesse da parte degli utenti è forte, quindi la finanziano, la supportano costantemente ogni mese. Tra le novità che vedremo sulla prossima versione di Linux Mint c'è l'arrivo di Win 4, praticamente viene utilizzata Win HQ, la versione 4 che è stata inserita nel repository di Linux Mint che va a risolvere diversi problemi e va ad aggiungere il supporto Vulkan, le Direct3D12 e altre cosine qua e là, poi andatevi a leggere le informazioni che ha pubblicato sul blog a riguardo. È stato fatto un aggiornamento dei siti web della comunità, il primo a essere modificato è quello della community, community.linuxmint.com, andatelo a vedere perché adesso offre un tema molto più moderno, è fatto in bootstrap, quindi si adetta a tutti i dispositivi e potete ammirare anche il nuovo logo di Linux Mint. Per quanto riguarda invece le applicazioni che fanno parte di Linux Mint abbiamo che nella prossima versione di XED, creditor di testo predefinito, è stato aggiunto il supporto alla commutazione dei commenti e dei blocchi di commenti. Nel blog trovate maggiori informazioni, poi sono stati fatti dei ritocchi quali ai widget delle impostazioni che sono stati resi più snelli con miglioramenti del codice. Passiamo adesso a un'altra distribuzione, Zorin OS 15, è stata rilasciata nella giornata di oggi, c'è un nuovo look alla Windows più moderno, più carino, più quant'altro, questa distribuzione è basata su Ubuntu 18.04, rispetto a Ubuntu ha un repository aggiuntivo che contiene le varie estensioni che vengono utilizzate dal team di Zorin OS per ricreare la propria interfaccia grafica, contiene anche una serie di pacchetti con alcuni software tipo GIMP che viene mantenuto aggiornata l'ultima versione, quindi non c'è bisogno di stare repository di terze parti, la stessa cosa se non ricordo male che accade anche per LibreOffice. Poi questa distribuzione offre una personalizzazione alla Windows dell'interfaccia grafica, è basata sempre su Gnome Shell, la stessa versione che troviamo su Ubuntu 18.04, quindi questa nuova release porta delle prestazioni migliorate dovute a Gnome e l'ultimo kernel, porta un nuovo tema per il desktop, porta Zorin Connect che è praticamente KDE Connect in versione Zorin, quindi un applicativo per Android che consente di interfacciarsi al sistema operativo per controllare riproduzione brani e altre cose neanche quella, e un nuovo tool chiamato Zorin Auto Team che adatta il tema diurno notturno. Potete scaricare Zorin OS 15 nella versione Core, quella gratuita, nel link che trovate su Marcosbox, vi ricordo che è disponibile anche nella versione a pagamento, che offre oltre al supporto all'installazione alcuni layout aggiuntivi tipo quello Mac OS, nient'altro perché praticamente l'altra differenza rispetto all'edizione Core è che offre più software preinstallato sia applicativi che giochi, quindi comunque sono cose che potete fare anche a mano. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa distribuzione. Passiamo alle notizie adesso dal mondo di LibreOffice, è stata rilasciata la beta 1 di LibreOffice 6.3. la versione stabile di questa nuova versione è prevista per il mese di agosto, maggiore velocità, sia nell'apertura che nel salvataggio dei file, supporto di Fourier per i fogli di calcolo, miglioramenti nell'esportazione, anche quella dei PDF con tag, miglioramenti nell'interfaccio utente e altre cose, quella. Nota importante di questa nuova distribuzione è che la versione 6.3 non verrà rilasciata ufficialmente per le distribuzioni Linux a 32 bit, quindi l'ultima versione, diciamo così, del ramo fresh compatibile con le distribuzioni a 32 bit di Linux e la 6.2, cioè comunque la versione in stile che viene supportata, verrà supportata per più tempo. All'interno del blog trovate maggiori dettagli al riguardo. Ultima notizia della settimana è la decisione a parte di Mozilla di attivare il blocco dei cookie traccianti di terze parti per impostazione predefinita per le nuove installazioni di Firefox. Mozilla ci tiene molto alla privacy, i cookie traccianti di terze parti sono utilizzati per la profilazione, per quanto riguarda, dalle aziende vengono utilizzate per il targeting degli utenti con finalità di guadagno, diciamo così, alla fine quello è sempre quello che fa girare tutte queste tecnologie, il soldo. Mozilla non ci sta a questo modello di business e appunto ha deciso di tutelare la privacy degli utenti preattivando questa opzione per tutte le nuove installazioni. Su blog vi spiego come fare per attivare tale impostazione se avete già un'installazione di Firefox, Mozilla comunque ha fatto sapere che nei prossimi mesi settimane, non si sa, prossimamente questa impostazione verrà proposta anche agli utenti che hanno già installazioni di Firefox in corso. Bene, con questo è concluso, lunga vita e prosperità, ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao! Ciao!